Ciao a tutti, mi chiamo Liliette, vengo da Valè d'Aosta e sono andata un po' informare per trovare questa clinica. Sono entrato come tutti gli altri su internet, andata un po' su Facebook soprattutto e lì ho documentato un po', ho valutato, parte che ho già fatto preventiva e anche altre parti, l'ho valutato dov'è che conviene anche, riguarda la clinica, dov'è che si può trovare bene la parte dei prezzi e quindi sono scelto questo posto, sono stracontenta, ho un po' di sofferenza, quelle sì però, il lavoro definitivo è veramente satisfatta, sì e ho perso i denti un po' di anni fa, sono 33 anni però ho perso i denti un po' di anni fa quando ero incinta e da lì ho iniziato tutto e avendo venuto da un paese che è un po' povero, che io vengo dal Madagascar e non c'è tanta possibilità di fare cura e allora è così, ho perso quasi tutto, però venendo qua ho risolto queste cose, questi problemi, finalmente posso sorridere, è un bel posto, è un posto da visitare che è veramente bello, la gente della clinica sono tutti simpatici, tutti, il dottore vuole fare un ringraziamento speciale per un dottore, non so come si chiama, c'è un barbarosso, Adriano, veramente grazie, grazie, grazie di cuore, ieri mi ha sopportato, però veramente un bravo dottore e non finirò di ringraziare, veramente bravo, bravo. Grazie.